Una lettera minatoria con minacce di morte al neoprocuratore di Prato, Luca Tescaroli, è stata fatta arrivare nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia, dove da poco si è insediato. La notizia è rivelata nell'edizione di oggi da Repubblica, che riporta anche il testo della minaccia. Ti faremo saltare con il tritolo, finiremo quello che abbiamo iniziato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la lettera sarebbe arrivata il 29 luglio scorso e in base al timbro postale risulta spedita il 18 da Firenze. Sulla vicenda stanno indagando i magistrati di Genova, competenti sul distretto di corte d'appello di Firenze. Tescaroli in questi anni ha indagato a lungo per svelare i mandanti occulti delle stragi mafiose negli anni 90 e vive sotto scorta. Già lo scorso anno, a giugno, era scattato l'allarme dopo che due uomini, durante la notte, avevano lasciato un pacco sospetto davanti alla sua abitazione di Firenze.